Ciao a tutti, mi chiamo Sara, sto svolgendo il tirocinio nel laboratorio di Zikkat per la produzione di alimenti a base di cioccolato. Sono venuta a conoscenza del bando di Master Mestè attraverso la bacheca che troviamo a Informa Giovani. Il mio percorso prima di arrivare qui, per quanto riguarda il percorso di studi è stato iscrivermi all'università nella facoltà di lingue dopo aver conseguito il diploma nel liceo linguistico. Ho continuato poi a fare l'Erasmus all'estero dopo il periodo di chiusura di lockdown. Ho voluto cimentarmi anche per necessità personali nel mondo del lavoro e iniziando proprio nella produzione alimentare. La mia giornata tipo qui da Zikkat può essere suddivisa in due fasi che sono le stesse della produzione artigianale qui in laboratorio ovvero una volta che arrivo alle 9 circa del mattino per iniziare il mio lavoro chiedo direttamente al tutor quali possano essere le mie mansioni più urgenti ma indicativamente mi dedico prima al confezionamento e poi se necessario e attive già le macchine mi sposto poi nella zona di produzione vera e propria.